Grazie, buon meriggio a tutti. Sì, ecco, quindi la seconda parte dell'intervento che verte principalmente sulla mappatura speditiva annuale da satellite, appunto come si diceva, del consumo di suolo. Un'attività che nasceva appunto qualche anno fa da specifici requisiti informativi di norme regionali. Prima fra tutte una legge quadro, il testo unico in materia di agricoltura, foresta e pesca, sviluppo rurale, appunto del 2011, richiamo alcuni passaggi in grassetto, appunto si chiedeva lo sviluppo di una metodologia di misurazione del consumo di suolo agricolo e introducendo anche l'aspetto della periodicità, senza specificare annuale o pluriannuale, eccetera. Però era un primo punto fermo importante. Un altro tassello è la già citata più volte legge regionale 31, che con tutti i limiti però, per esempio, aveva questi punti forti perché sottolineava l'esigenza di una quantificazione e un monitoraggio dei consumi di suolo a supporto del piano territoriale regionale. Anche qua si ripete il concetto di monitoraggio periodico e demandando anche al supporto degli enti tecnici del sistema regionale, come appunto ERSAF e ARPA. Quindi l'obiettivo generale da cui siamo partiti era quello di creare una mappatura a scala regionale delle aree soggette a consumo di suolo realizzabili in tempi contenuti. Siamo dati l'obiettivo di fare ogni anno un aggiornamento sull'anno in corso delle variazioni intercorse da un anno all'altro, appunto. Partendo da quanto di buono c'era già disponibile in regione, quindi DUSAF è già appena stato descritto da Dante. Manca dati molto buona per aggiornamento, scala, contenuto informativo, ma appunto aggiornabile ogni 3-4 anni a quell'epoca. Una breve condizionale, quindi la collaborazione nacque più o meno a valle della prima legge regionale che citavo prima, nel 2012. I primi due anni sono stati un po' di test utilizzando dati satellitari commerciali e anche il Lansatotto, concentrandoci solo su una parte della regione, nella parte di pianura. Nel 2014 invece per la prima volta abbiamo fatto un aggiornamento annuale su tutto il territorio regionale, usando in questo caso dati satellitari Lansatotto, quindi di USGS e NASA, dati gratuiti, usando come baseline di partenza la banca dati DUSAF a quel momento disponibile, che era appunto il DUSAF aggiornato al 2012. E quindi il prodotto fu una cosa di questo tipo, quindi a scala regionale, all'interno delle aree che qua si vedono in giallo, che quindi DUSAF cartografava come aree asseminativo, al 2012 si individuavano i poligoni, qua visualizzati in rosso, che sono stati soggetti in questo caso a consumo, a trasformazione da area agricola a area antropizzata di vario tipo, al 2014, quindi. Vedendo quindi ad anni più recenti, 2015 cosa è successo? Sapevamo che il 2015 sarebbe stato un anno di aggiornamento della banca dati DUSAF, per cui abbiamo detto, no, sappiamo che ci sarà il DUSAF, non ci mettiamo a fare un aggiornamento annuale da satellite, che ovviamente avrebbe avuto un'accuratezza inferiore. Viceversa, l'anno scorso, disponibile il nuovo aggiornamento DUSAF del 2015, l'abbiamo usato come nuova baseline di partenza, usando un dataset multitemporale di immagini Sentinel, quindi della costellazione europea Copernicus, già citata questa mattina da Michele Monafo, quindi immagini multitemporali, e abbiamo cercato le variazioni dal 2015 al 2016. Il 2016 è stato anche un anno importante per ARPA e per tutte le ARPA, perché appunto è stata la legge nazionale 132 di istituzione del sistema nazionale di protezione dell'ambiente, e nella legge istitutiva, appunto, come si diceva questa mattina, il monitoraggio del consumo di suolo è proprio esplicitato come uno dei compiti principali istituzionali assegnati al sistema di protezione nazionale. Per cui il concetto è che le elaborazioni che sono state fatte a livello regionale con gli scopi che dicevamo, di fatto concorrono a tutti gli effetti all'aggiornamento della carta nazionale di consumo di suolo presentata appunto da Ispera, dal sistema, questa mattina. Questa è la metodologia con un flowchart di sintesi, quindi di nuovo l'anno di partenza cartografato dalla banca dati regionale, 2016 in questo caso, quindi si selezionano le immagini multitemporali utili per fare l'elaborazione, si fanno degli indici sintetici e si lavora sulla mappa multitemporale. Il tutto viene fatto con classificazioni semiautomatiche, ovviamente è supportato da banche dati accessorie, laddove disponibili e utili, quindi di nuovo il sistema informativo agricolo, per esempio per eliminare l'ambiguità legata alle serre, ma questi sono dettagli, oppure la cartografia delle grandi opere in fase di costruzione, eccetera. E poi ovviamente anche una fase ovvia di revisione per fotointerpretazione e affinamento dei poligoni che sono stati estratti in modo semiautomatico. Quindi il prodotto è la mappa di variazione annuale, appunto l'input anche per la carta nazionale. Qua giusto quattro esempi di alcune tipologie di poligono o di consumo di suolo dal 2015 al 2016, sono i poligoni con bordo nero, quindi una classica espansione di tipo misto, residenziale, quasi prettamente residenziale, espansione di cave, qua in basso a destra un'espansione di area industriale e commerciale, e poi le infrastrutture, questa è la statale 38 e nella bassa Valtellina. Qua volutamente ho riportato all'immagine dal rapporto nazionale, credo sia un'immagine abbastanza esemplificativa, e poi è interessante che nel rapporto per tutte le regioni viene usata questa rappresentazione con le stesse classi che dà un buon colpo d'occhio sulla localizzazione e estensione dei principali cambiamenti avvenuti. In sintesi le conclusioni, ma appunto sono quelle bene o male già dette, quindi ovviamente la Lombardia si conferma alla regione italiana con i voli assoluti e percentuali di consumo più alti, è chiaro che si sconta quello che diceva la collega prima, i decenni 60-70-80 che hanno fatto il grosso di queste percentuali. Venendo agli ultimi anni, effettivamente se soprattutto ragioniamo in termini relativi, quindi consumo pro capite o consumo pro industrie volendo, il consumo in Lombardia risulta anche leggermente inferiore alla media nazionale. E poi soprattutto sul brevissimo periodo, nell'ultimo anno, negli ultimi anni, sia da analisi dell'USAF che dall'analisi da satellite, si evidenzia da un trend che effettivamente è ancora significativo, importante, ma è caratterizzato da un trend che appare in decrescita. Venendo ai prossimi sviluppi, siamo nel 2017, quindi abbiamo l'obiettivo di fare anche quest'anno l'aggiornamento annuale basato sui dati Sentinel, useremo ovviamente l'ultimo d'uso di strumento imponibile che è il 2015, e quindi cercheremo i cambiamenti avvenuti dal 2015 al 2016 al 2017, quindi al fine di elaborare statistiche di trend aggiornati di consumo, al fine di fornire gli input per i prossimi aggiornamenti della Carta Nazionale e dell'SNPA, e poi vorremmo usare questi dati anche per altro, perché ovviamente a supporto di altre valutazioni, sia interne in ARPA che interne nel sistema regionale. Ne cito due. Uno è di sicuro il supporto al monitoraggio del consumo di suolo di specifiche trasformazioni, penso e cito il discorso del monitoraggio delle grandi opere, quindi tutto l'aspetto legato alla valutazione ambientale strategica, tutto il lavoro dei colleghi di ARPA. E poi il supporto al monitoraggio delle trasformazioni in ambito pianificazione territoriale, quindi entrare un po' più nel merito di cosa cambia, dove cambia il territorio, i confronti con le previsioni urbanistiche, gli strumenti di pianificazione. Due esempi su queste due tipologie di applicazione. Questa per esempio è una grande opera in fase di costruzione, l'interconnessione fra l'A35 e l'A4, opera soggetta al monitoraggio in ambito VAS, in fase di campagna ante operam. In realtà i lavori sono iniziati a febbraio 2017, e vediamo cosa sta succedendo. Quindi questo è il DUSAF, quindi al 2015, su questa zona. Questa è un'immagine Sentinel del settembre 2016, quindi effettivamente ancora nulla è avvenuto. Questa è un'immagine Sentinel di poche settimane fa, vedete dal settembre, solo visivamente si notano gli allargamenti della sede stranale, le aree di cantiere, i nuovi svincoli in fase di costruzione, eccetera. Si notano ancora meglio, per esempio, sovrapponendo le aree urbanizzate di DUSAF. Quindi il messaggio è, ci aspettiamo che in modo semiautomatico, dalle elaborazioni dei prossimi mesi, queste aree verranno cartografate e poligonate, e sarà un possibile input a supporto delle valutazioni interne dei colleghi. L'altro tipo di utilizzo è questo, è abbastanza ovvio, ma abbiamo iniziato a farlo, ma credo sia abbastanza importante, quindi entrare un po' nel merito di quello che succede all'interno delle zone che la legge 31 definisce come aree urbanizzabili, in prima battuta. Quindi qua c'è un esempio, quindi di nuovo DUSAF 2015, un'immagine Sentinel, questo è il solito esempio di calcio, ho già citato due volte stamattina, quindi qua siamo a tre. E questi blu sono tutti i poligoni che il PGT vigente in questo comune definisce come ambiti di trasformazione, ovvero aree urbanizzabili a tutti gli effetti, secondo la legge 31. Quindi, punto uno, saremo in grado di definire, marcare quali di questi ambiti di trasformazione sono già variati, e avremo uno strumento, pur con tutti i limiti di scala, eccetera, eccetera, che consente di verificare dove è ancora tutto libero e seguire un po' tutto il fenomeno nel tempo. Questo per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione, idem per quelli che i PGT chiamano ambiti del tessuto urbano consolidato, quindi tutte le aree intercluse interne al tessuto già urbanizzato esistente, che però sappiamo anch'esso essere soggetto a trasformazioni. Qua c'è di nuovo un esempio, DUSAF 2015, al centro un'area ancora agricola, senti nel 2016, col poligono di variazione avvenuta, quindi in solo questo anno, all'interno di un'area che il Comune già marcava come ambito del tessuto urbano consolidato, quindi è a tutti gli effetti un consumo di suolo, ma che ai fini, diciamo, della verifica, del monitoraggio della pianificazione territoriale, non emerge allo stesso modo. Avrei concluso, vi ringraziamo. Va bene, speriamo di non doverci abituare a queste carte ferite dal rosso sangue, delle trasformazioni. Prenderemo i colori. No, no, ma va benissimo.